Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del quotidiano web. L'attacco è stato una nota di servizio, è stato riaperto nel tardo pomeriggio il tratto autostradale della A14 Bologna-Taranto, compreso tra Foggia e Cerignola Est, in entrambe le direzioni, chiuso poco dopo le 15.30 a causa della scarsa visibilità dovuta al fumo sprigionato da un incendio esterno alla careggiata. Autostrade in una nota comunica che è stata riaperta anche la stazione di Foggia, zona industriale, in entrata per entrambe le direzioni e in uscita da entrambe le provenienze. È necessario denunciare il messaggio di Chiara Colossimo, presidente della commissione antimafia parlamentare, lanciato all'assemblea regionale delle associazioni antiracket tenutasi a Cerignola e annuncia quando potrebbe esserci un focus della commissione a Foggia. Sentiamo Pietro Capuano. Tra le prime missioni che abbiamo stabilito di fare evidentemente dobbiamo fare attenzione a non sovrapporci a eventuali elezioni come noto, ma certamente questa mia presenza qui e anche la presenza di alcuni componenti della commissione dimostra la priorità su Foggia. La squadra strato funziona a Foggia, ha detto il presidente Fai, non ci sono più scuse per non denunciare. Condivido e rilancio. È necessario denunciare, ribellarsi e denunciare, soprattutto come hanno fatto imprese come questa, è l'unica strada per debellare il puzzo mafioso. Onorevole, c'è stato un interrogatorio pochi giorni fa proprio di un esponente della Questura che ha detto che invece ce ne sono ancora troppo poche di denunce. Che cosa bisogna fare? Bisogna incoraggiare alla denuncia. Le denunce non sono mai abbastanza in territori come queste perché sappiamo che purtroppo in questi territori, così come in buona parte del sud Italia, questa modalità, cioè quella del racket, dell'usura, delle estorsioni, è la modalità più utilizzata. Al nord hanno altri tipi di problemi ma li hanno anche lì. Potrebbe. Guardi, se non è entro l'estate è certamente a settembre. Sono accusati di concorso in porto illegale di pistola e favoreggiamento del 17enne accusato e reo confesso dell'omicidio di Nicola Di Rienzo. I due giovani arrestati dalla squadra mobile di Foggia sulla base di un'ordinanza risposta dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura e di un'altra emessa dal GIP del Tribunale dei minori di Bari. Il maggiorene si trova in carcere mentre il minore indagato è stato affidato dal GIP in una comunità. Nicola Di Rienzo fu ucciso il 27 novembre del 2022 in via alla Piccirella a Foggia davanti ai giardini pubblici dal 17enne attualmente detenuto nel carcere minorile Fornelli di Bari con l'accusa di omicidio volontario. La vittima, 21enne, con precedenti per furti e droga al momento dell'omicidio nei suoi slip nascondeva un tirapugni con lama a scatto. Sono ritenuti irresponsabili a vario titolo di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti e possesso e utilizzo illegale di telefonini all'interno di carceri, il tutto aggravato dall'aver agevolato un contesto mafioso. Le cinque persone raggiunte questa mattina dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della direzione distrettuale antimafia ed eseguita dai carabinieri del ROS e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Foggia che hanno condotto le indagini. In carcere sono finiti i pregiudicati Enzo Miucci, Matteo Pettinicchio, Claudio Iannoli, ai domiciliari i fratelli Davide e Mario Carpano. I cinque, stando alle accuse formulate, avrebbero avvantaggiato l'organizzazione mafiosa operante sul Gargano, Libergolis Miucci di Monte Sant'Angelo. Cambiamo argomento. L'Università di Foggia lancia una nuova laurea magistrale in sviluppo e innovazione sociale. Si tratta di un corso innovativo in materia di welfare e sostegno alle politiche pubbliche. Ce ne parla Domenico Suriano. Professoressa, un nuovo corso di laurea qui all'Università di Foggia. Ce lo presento? È un corso di laurea innovativo in materia di welfare e sostegno alle politiche pubbliche. è collocato presso il DEMET, quindi il Dipartimento di Economia, e si avvale della collaborazione con la Regione Puglia e con alcuni enti del terzo settore, nonché con il rapporto fondamentale con la fiera, col progetto della fiera del terzo settore. L'obiettivo di questo nuovo corso di laurea è creare dei soggetti qualificati professionalmente per svolgere delle funzioni apicali all'interno della pubblica amministrazione o dei medesimi enti del terzo settore o delle organizzazioni internazionali in materia di attuazione di politiche di welfare e dunque di sostegno, laddove la leva pubblica risulta ormai fortemente ridotta e laddove invece l'intervento delle strutture sociali del terzo settore diventano fondamentali. Le professionalità che verranno create attraverso il percorso di laurea avranno una buona quota di conoscenza politica, sociologica, ma anche economica per creare anche nuovi strumenti di impatto sociale come vengono richiesti dall'Unione Europea e in modo analogo a quanto accade in altri ordinamenti. È il primo corso di laurea unico in Italia che ha l'obiettivo di sviluppare queste professionalità che vengono fortemente richieste non soltanto dalle organizzazioni pubbliche ma anche dagli stessi attori sociali che ormai sono diventati parte integrante delle politiche di welfare. Chiudiamo con una notizia in cucina da Lucio Manistellate, l'eredità artistica del cantautore bolognese onorata dall'estro di grandi chef. Ancora una volta la villa di Lucio Dalla, le isole Tremiti, torna a ospitare un evento che unisce il fascino del luogo, le emozioni legate alla casa che custodisce la memoria dell'artista e l'alta cucina, l'iniziativa promossa da Sintattica Servizi e Turismo. La società che gestisce l'immobile La Villa di Lucio Dalla è in programma il prossimo 10 agosto. La casa dove Dalla ha composto tante sue celebri canzoni sarà teatro di un confronto ai fornelli. Gli ospiti parteciperanno infatti a un pranzo a quattro mani. A prepararlo saranno gli chef Igles Corelli e Lucio Testa. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che l'appuntamento con il TG Web del quotidiano L'Attacco è per lunedì prossimo alle ore 20. Buona serata e buon fine settimana da Onofrio D'Alessio.